Sono circa 230 i lavoratori in nero individuati dagli ispettori dell'Inps durante una campagna straordinaria di ispezioni coordinata dalla direzione regionale dell'istituto e condotta durante i mesi estivi nelle principali località turistiche dell'isola, dalle località balneari come Capodorlando, Taormina o San Vitolo Capo, alle città d'arte come Palermo, Catania e Noto. A livello locale l'attività ha visto anche in certi casi la collaborazione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Guardia di Finanza. Nelle 140 attività commerciali ispezionate, bar e ristoranti locali di ritrovo notturno sono stati inoltre scoperti e segnalati all'autorità giudiziaria 10 percettori legittimi del reddito di cittadinanza, 6 percettori legittimi di indennità di disoccupazione e 6 rapporti di lavoro fittizi, cioè simulati al fine di ottenere il pagamento di prestazioni Inps. I risultati dell'iniziativa, commenta il direttore regionale dell'Inps Sergio Saltalamacchia, dimostrano la necessità di una costante sorveglianza del territorio a contrasto del lavoro nero e ci incoraggiano a proseguire la vigilanza soprattutto in quei settori del terziario in cui il fenomeno in Sicilia è cronico. In queste realtà l'azione dell'Inps rimane essenziale per assicurare la legalità nel mondo del lavoro, a garanzia dei lavoratori e degli stessi datori di lavoro che rispettano le regole.